Abbiamo in noi, nella nostra più profonda intimità, un principio divino che va preso sul serio. Se non viene da noi rispettato, finiamo per snaturarci e la nostra esistenza diventa inautentica. La sensazione di essere in grazia di Dio dona serenità interiore, però nessuno può davvero essere sicuro del suo stato spirituale. Dio ci ama sempre come figli in qualsiasi situazione ci troviamo. Se crediamo a questo, invece di presumerci innocenti davanti a Lui, Egli è più contento e continua a proteggerci se siamo consapevoli della nostra fragilità. La cosa che più ci allontana da Lui è quella di non aver fiducia nella Sua divina misericordia. Non credere che Egli sia presente e che si interessi delle sue creature teneramente è un torto che subisce. Forse lo ferisce molto di più di altri peccati. Stiamo attenti dunque a non sottovalutare il suo amore per ciascuno di noi. Egli ci lascia il libero arbitrio e non credere che la nostra vita abbia un senso in Lui potrebbe portarci alla depressione e ad altre patologie psichiche e fisiche. Noi proveniamo da Lui e ritorneremo a Lui. Abbiamo in noi, nella nostra più profonda intimità, un principio divino che va preso sul serio. Se non viene da noi rispettato, finiamo per snaturarci e la nostra esistenza diventa inautentica.